Una Closi in area di rigore, Closi contro Marchetti, poi un pallone salvato arriva Sculli E' il gol della Lazio, azione fantastica di Closi, poi Cosa che ha toccato, ha salvato sulla linea, probabilmente zaccato alla fine Sculli da lì, non potevano metterla dentro Quando hai un fuoriclasse così, la partita si può decidere in qualsiasi momento Accelerazione fantastica di Closi che ha dato fuori le ultime energie di questa partita Grande Cosa, palla in pezzo, Cosa che non è stato bravo a ribadire i gol, fortunatamente Sculli è andato fuori le spinta e l'ha messa dentro Marcardo Salva, Sculli da lì la mette dentro, tutti da Closi, Sculli praticamente ignorato perché davvero il 90% del gol l'ha costruito tutto Iro-Snap Closi potrebbe essere il primo gol di Sculli stagionale decisivo perché quando ha fatto gol la Lazio non ha mai vinto Il pareggio è una sconfitta, questa volta la sensazione che possa essere gol della vittoria, anche se mancano ancora 4 minuti e mezzo di recupero Iro-Snap Closi potrebbe essere il primo golferale Iro-Snapraph